15. Il testamento Quando Ulrich tornò a casa, più scontento di prima per la scena a cui aveva assistito, non volle più rimandare una risoluzione e richiamò alla mente con la maggiore esattezza possibile l'incidente, parola con la quale definiva, mitigandolo, ciò che era accaduto nelle ultime ore trascorse presso Agate, pochi giorni dopo il grande colloquio. Ulrich aveva già fatto tutti i preparativi per prendere un treno e vagoni letto che transitava tardi nella notte e i fratelli pranzavano insieme per l'ultima volta. Avevano già combinato che Agate avrebbe seguito Ulrich a breve distanza e la separazione sarebbe durata presso a poco dai 5 ai 15 giorni. A tavola, Agate disse, prima però c'è ancora una cosa da fare. Che cosa? domandò Ulrich. Dobbiamo cambiare il testamento. Ulrich ricordava di aver guardato la sorella senza stupore. Nonostante tutto quello che si erano già detto, egli si aspettava uno scherzo. Ma Agate guardava il suo piatto e aveva alle radici del naso la ben nota ruga del pensiero. Disse lentamente, il mio non deve restargli fra le dita più di quello che avanza quando si brucia un filo di lana. Negli ultimi giorni ci doveva essere stato dentro di lei un gran lavorio. Ulrich voleva dirle che quel nambicarsi il cervello per danneggiare Agawar gli pareva illecito e che non desiderava discuterne. In quel momento però entrò il vecchio servitore di casa che portava le pietanze e poterono parlare solo con velati accenni. Zia Malvine, disse Agate strizzando l'occhio al fratello. Ti ricordi di zia Malvine? Aveva destinato tutto il suo patrimonio a nostra cugina. Era cosa stabilita. Tutti lo sapevano. Perciò a questa fa segnata nel testamento paterno solo la parte legittima, affinché nessuno dei due, amati del padre con uguale tenerezza, dovesse avere più dell'altro. Te ne ricordi, no? La rendita annuale che Agate, cioè Alexandra, tua cugina, si corresse ridendo, riceveva da quando si era sposata, fu sempre dedotta da quella legittima. Era una faccenda complicatissima per lasciare a zia Malvine tutto il tempo di morire. Non ti capisco, aveva abbrontolato Ulrich. Ma è facilissimo da capire. Zia Malvine è morta, ma prima di morire aveva perso tutto quello che possedeva. Bisogna anzi soccorrerla. Adesso basta che papà, per una ragione qualunque, abbia dimenticato di annullare la propria modificazione del testamento, ed ecco che Alexandra non ne riditerà niente, anche se il suo matrimonio è stata concordata alla comunanza dei beni. Non lo so, credo che ci sarebbe molto da discutere, disse Ulrich involontariamente. E poi potrebbero esserci state precise assicurazioni da parte del babbo. Non avrà testato in quel modo senza parlarne col genero. Si ricordava perfettamente di aver risposto così, non potendo tacere davanti al pericolo che la sorella si mettesse in un guaio. Anche il sorriso con quale ella gli aveva risposto sarà ancora davanti ai suoi occhi. E fatto così, pareva pensare Agate, basta presentargli una cosa, come se fosse non carne e sangue, ma un'astrazione, e poi lo si può menare per il naso dove si vuole. E dopo aveva chiesto brevemente, c'erano accordi scritti? E rispose a se stessa, non ne ho mai udito parlare, e dovrai pur saperlo, ma papà era strano in tutte le cose. In quel momento il servitore girava col piatto, ed ella approfittò di quella presenza che disarmava Ulrich per aggiungere. Le promesse verbali si possono sempre contestare, ma se il testamento fu di nuovo cambiato quando zia Malvine diventò povera, tutto fa pensare che questo secondo ritocco sia andato smarrito. Ulrich si lasciò di nuovo indurre a un'osservazione, e disse, resta sempre la legittima, che è abbastanza considerevole, quella non la si può portare via ai figli carnali. Ma ti ho già detto che era stata versata già tutta quando papà era ancora in vita. Alexandra si è pur maritata due volte. Per il momento erano soli, e Agate si aggiunse in fretta. Quel punto l'ho studiato bene. Basta cambiare poche parole, per far credere che la legittima mi sia già stata data prima. E oggi, chi vuoi che lo sappia? Quando papà, dopo i rovesci della zia, l'assegnò di nuovo parti uguali, lo fece in un foglio aggiunto, che si può distruggere. Del resto, potrei anche aver rinunciato alla mia parte legittima, per lasciarla a te per una ragione qualunque. Ulrich la guardò sbalordito, e così perse l'occasione di dare a quelle trovate la risposta di dovere. Quando incominciò erano di nuovo in tre, e dovette mascherare le sue parole. Davvero, incominciò titubante, non bisognerebbe neanche pensare a una cosa simile. E perché mai, ribatte Agate. Tali domande sono molto semplici quando stanno lì, quiete. Ma fanno effetto di quei serpenti, che arrotolati sembrano innocui, e poi di colpo diventano mostri terribili. Ulrich ricordò di aver risposto. Perfino Nietzsche prescrive agli spiriti liberi di rispettare certe regole esteriori per amore della libertà interiore. Lo aveva detto con un sorriso, sentendo però che era vile celarsi dietro le parole di un altro. «Quello è un principio sbagliato», decretò Agate brevemente. «Secondo quel principio, purtroppo, mi sono sposata». Ulrich pensò. «Sì, è veramente sbagliato. Si direbbe che coloro che a certe domande particolari hanno risposte nuove e rivoluzionarie. Con tutto il resto concludono poi un compromesso, che permette loro di vivere una conciliazione morale in pantofole. Tanto più che questo sistema, che cerca di salvare costanti tutte le condizioni, tranne quell'unica che vuol cambiare, corrisponde perfettamente alla feconda economia del pensiero da essi praticata». Anche a Ulrich questo era sembrato a austerità, piuttosto che in curie. Ma quando si svolse quel dialogo fra lui e la sorella, si sentì colpito. Non sopportò più l'irresolutezza che aveva prediletto. E gli parve che proprio Agate avesse avuto la missione di portarlo a quel punto. E mentre le poneva davanti tuttavia la regola degli spiriti liberi, ella rise e gli chiese se non si accorgeva che nel momento in cui cercava di enunciare regole generali un altro uomo parlava per lui. «E quantunque tu certo lo ammiri a buon diritto, in fondo egli c'è del tutto indifferente» e lo osservò. Guardava il fratello spavalda e con aria di sfida. Egli si sentì di nuovo impacciato a risponderle. Tacque aspettando ad ogni istante un'interruzione e non poteva risolversi a troncare il discorso. Agate ne fu incoraggiata. «Nel nostro breve periodo di convivenza» e la continuò. «Tu mi hai dato per la mia vita consigli così meravigliosi che non avrai mai osato sognare, ma ogni volta mi chiedevi se erano poi validi. Mi sembra che la verità nelle tue mani sia una forza che maltratta». Agate non sapeva da onde le venisse il diritto di fargli tali rimproveri e la sua propria vita le pareva così priva di valore che avrebbe dovuto tacere. Ma attingeva il coraggio in lui stesso. Ed era una condizione così stranamente femminile, questa di appoggiarsi a lui mentre lo attaccava, che anche egli lo sentì. «Tu non hai la minima comprensione», disse, per il desiderio di compendiare il pensiero in grandi masse articolate. «Esperienze guerresche dello spirito ti sono estranee. Tu ci vedi soltanto nelle colonne che marzano in cadenza, in personalità di molti piedi che sollevano la verità come una nuvola di polvere. Ma non mi hai descritto tu stesso, con una precisione e una chiarezza di cui non sarai mai stata capace, i due stati in cui tu puoi vivere», e le rispose. Una nube di fuoco dai contorni rapidamente mutevoli le passò sul volto. Voleva portare il fratello a un punto di dove egli non potesse più tornare indietro. A quell'idea si sentiva bruciare dalla febbre, ma non sapeva ancora se le sarebbe bastato il coraggio e tirò in lungo alla fine del pranzo. Questo Ulrich lo sapeva, lo indovinava, ma ormai si era riscosso e lo rassicurò. E stava di fronte, gli occhi assenti, la bocca costretta con la forza a parlare, e aveva l'impressione di non essere in sé, ma di essere rimasto alle proprie spalle e di gridarsi dietro quel che diceva. Supponi, e gli disse, che in viaggio mi venga voglia di rubare il portasigarette d'oro a uno sconosciuto. Ti chiedo, non è semplicemente impensabile? Dunque non stiamo a discutere se una risoluzione come quella che tu vagheggi si possa giustificare o no con la libertà spirituale. Può anche darsi che sia giusto infliggere un danno ad Agauer, ma tu immagina che io, nel mio albergo, senza essere né bisognoso né un ladro di professione né un minorato psichico con deformazioni della mente o del corpo, senza avere un'isterica per madre o un beone per padre, mi metta tuttavia a rubare. Io ti ripeto che un caso simile non si può dare. Non c'è mai stato da che mondo è mondo. Lo si può dichiarare impossibile con assoluta sicurezza scientifica. Agathe rise forte. Ma Ulrich, e che vuoi fare se tuttavia quella cosa assurda succede? A quella replica che non aveva previsto, anche Ulrich non poté trattenere il riso. Balzò in piedi e spinse vivacemente indietro la seggiola per non incoraggiare Agathe col suo consenso. Agathe si alzò da tavola. Non devi farlo, che gli la pregò. Ma Ulrich, ribatte lei, non pensi mai in sogno o non sogni mai qualcosa che accade? Quella domanda gli ricordò la propria affermazione di qualche giorno prima che tutte le esigenze della morale indicano una specie di sonnambulismo il quale sparisce quando esse sono compiute e pronte. Agathe, dopo aver parlato, era andata nello studio del padre, che si vedeva illuminato oltre due porte aperte, e Ulrich, che non l'aveva seguita, la scorgeva entro quella cornice. Ella teneva una carta sotto la lampada e la leggeva. Non ha dunque l'idea di ciò che vuole accollarsi, e gli si chiese. Ma il mazzo di chiave dei concetti contemporanei come inferiorità nervosa, fenomeno deficitario, debilità congenite simili non apriva nulla, e nella bella visione che offriva Agathe mentre compiva il suo reato non si vedeva trazza di avidità né di vendetta né di alcun'altra bruttura. E sebbene con l'aiuto di quei concetti, anche le azioni di un delinquente o di un mentecato potessero sembrare a Ulrich relativamente addomesticate e civili, perché allora i motivi che la vita quotidiana distorce e esposta riappaiono nella profondità? La risolutezza dolce e spietata della sorella, in cui si mescolavano purità e delinquenza, in quel momento lo sconcertava interamente. Non poteva accettare il pensiero che quella creatura manifestamente in procinto di commettere una cattiva azione fosse una creatura cattiva. E intanto doveva stare a vedere come Agathe toglieva dalla scrivania una carta dopo l'altra, la scorreva, la metteva da parte e cercava con cura determinate annotazioni. La sua risoluzione sembrava discesa sul piano delle risoluzioni comuni da un altro mondo. Mentre l'osservava, Ulrich si domandava inquieto, perché mai aveva persuasa Gower a partire tranquillamente. Gli pareva di essersi comportato fin dal principio come lo strumento della volontà di sua sorella e sino alla fine, pur contraddicendola, le aveva dato risposte che la confortavano ad andare avanti. «La verità maltratta l'uomo», e l'aveva detto. «Molto giusto, ma lei ignora che cosa sia la verità», riflette Ulrich. «Con gli anni ciò ti procura un'artrite che ti inchioda. Ma in gioventù è una vita di caccia e di regate a vela». Era tornato a sedersi. Improvviso gli parve che Agathe avesse preso da lui non soltanto ciò che ella diceva a proposito della verità, ma anche che lui le avesse prescritto ciò che la stava facendo nella camera accanto. Gli aveva pur detto che nella condizione più sublime dell'uomo non c'è il bene e il male, ma soltanto la fede e il dubbio. Che nella fede non si può fare nulla di basso, che l'intuizione è uno stato più fervido che la verità. E Agathe adesso era sul punto di abbandonare il terreno recinto della morale e di avventurarsi in quell'abisso senza confini dove non v'è altra risoluzione se non salire o precipitare. Ella faceva questo come a suo tempo gli aveva tolto di mano le colazioni paterne per scambiarle. E in quel momento egli lamò senza curarsi della sua incoscienza, con la strana sensazione che erano i suoi pensieri, quelli che si erano comunicati da lui a lei e che ora da lei ritornavano a lui diventati più poveri di ponderatezza, ma balsamicamente odorosi di libertà, come una creatura selvaggia. E mentre egli tremava per lo sforzo di dominarsi le propose cautamente. «Rimanderò la mia partenza di un giorno e andrò a informarmi dal notaio o da un avvocato. Forse è terribilmente facile da scoprire quello che tu vuoi fare». Ma Agathe ormai sapeva che il notaio di cui suo padre si era servito non era più in vita. «Nessuno ne sa più niente», glielo disse. «Bassa stare». Ulrich vide che Ella aveva preso un foglio di carta e cercava di imitare la scrittura del babbo. Attirato, era venuto a mettersi dietro le sue spalle. Eccoli i mucchi di fogli sui quali la mano di suo padre aveva vissuto e se ne poteva quasi sentire ancora il movimento. Eppure Agathe produceva magicamente, come in un gioco scenico quasi gli stessi segni. Era uno spettacolo bizzarro. Lo scopo a cui tutto ciò era diretto, una falsificazione scompariva. E in verità Agathe non se l'era chiesto. Intorno a lei alleggiava una giustizia cinta di fiamme invece che sorretta ad argomentazioni logiche. Moltà, onestà e correttezza, quali virtù a lei note attraverso il professore Agauer erano apparsa appena come macchie tolte da un vestito. Ma l'ingiustizia che in quel momento l'avvolgeva era invece come il mondo che annega nella luce di un tramonto. E sembrava che giustizia e ingiustizia non fossero più concetti generali e un compromesso combinato per milioni di uomini, ma incontri magici del tuo e dell'io, follie della prima creazione, non ancora paragonabili con nulla e non misurabili con alcun metro. In fondo ella faceva donna ad Ulrich di un delitto col darsi in sua mano piena di fiducia che gli dovesse capire la sua sconsideratezza e simili bambini che quando vogliono fare un regalo e non hanno niente escogitano le cose più impensate. E Ulrich ne indovinava la maggior parte. Seguire i movimenti di lei gli dava un piacere mai gustato perché c'era una specie di assurdità fiabesca in quel cedere interamente e senza cautela a ciò che faceva un'altra persona. Anche quando gli ballerano ricordo che in pari tempo si faceva del male a un terzo durò appena un attimo come una mannaia a chi cade ed egli si acquitò rapidamente ragionando che in fondo l'azione di sua sorella non riguardava nessuno. Non era stabilito che quei tentativi dovessero servire a qualcosa e ciò che faceva Agat fra le sue quattro pareti rimaneva a far suo finché l'effetto non si espandeva fuori di casa. In quel momento ella chiamò il fratello, si volse e fu stupita di veder sola alle spalle. Si destò. Aveva scritto tutto quel che voleva scrivere e non eri risoluta alla fiamma di una candela per dargli l'aspetto di un vecchio documento. Tese a Durri la mano libera. Egli non la prese ma non riuscì neppure ad aggrottare il viso in rughe severe. Allora Agat disse senti quando una cosa è una contraddizione e tu l'ami in tutti e due i suoi aspetti l'ami per davvero. Non abolisci già per questo fatto stesso che tu lo voglia oppure no? La domanda è posta con troppa leggerezza pronto l'Ouli. Ma Agat sapeva come li avrebbe giudicato nel suo secondo pensiero. Prese un foglio pulito e vi scrisse sopra baldanzosa nella scrittura antiquata che sapeva così bene imitare. La mia cattiva figlia Agat non mi dà alcun motivo di mutare queste mie disposizioni da presa una volta per sempre a favore del mio buon figlio Ulrich. Ma non le bastò che su un secondo foglio scrisse. Mia figlia Agat dovrà essere educata ancora per un po' dal mio buon figlio Ulrich. Così dunque era stato. Ma dopo che Ulrich ebbe rievocato ogni particolare alla fine non sapeva meglio di prima quello che si sarebbe dovuto fare. Non avrebbe potuto partire senza rimettere le cose a posto. Questo era fuori di dubbio. E certo il pregiudizio moderno che non si debba prendere nulla troppo sul serio gli aveva giocato un tiro suggerendogli di sgomberare per intanto il terreno e di non aumentare con una resistenza di uomo sentimentale l'importanza della questione controversa. Il diavolo non è mai brutto come lo si dipinge. Dalle più violente esagerazioni, se lasciate a se stesse, nasce col tempo una nuova mediocrità. Non si potrebbe salire su un treno e per la strada bisognerebbe sempre tenere pronto una pistola senza sicura se non si potesse fidare nella legge della media che rende automaticamente improbabili le possibilità oltrepassate. A questo empirismo europeo aveva obbedito Urich partendo per Vienna nonostante i suoi scrupoli. In fondo era persino contento che Agate si fosse mostrata sotto un nuovo aspetto. Tuttavia la conclusione di quell'incidente non poteva essere che quella legittima. Urich doveva al più presto recuperare il tempo perduto. Bisognava mandare senza indugio alla sorella un espresso un telegramma ed egli si raffigurò che dentro avrebbe dovuto scrivere su per giù rifiuta ogni corresponsabilità nel caso che tu, ma non aveva nessuna intenzione di farlo, anzi per il momento gli sarebbe stato assolutamente impossibile. D'altronde quella scena in Faust era stata preceduta dalla risoluzione di vivere o almeno di abitare insieme di lì a poche settimane e nel poco tempo che li separava dall'addio avevano dovuto parlare specialmente di questo. Prima di tutto si erano messi d'accordo per la durata della separazione affinché Agate non restasse senza appoggio e senza consiglio. Ma ora ripensandoci Urich ricorda anche un'affermazione precedente della sorella di voler ammazzare Agawar e certo quel progetto era maturato in lei prendendo una forma nuova. Ella aveva molto insistito perché i beni stabili della famiglia fossero venduti subito e probabilmente nell'intento che la proprietà si voletilizzasse sebbene la cosa apparisse consigliabile anche per altre ragioni. Ad ogni modo i fratelli avevano incaricato della vendita a un'agenzia immobiliare e fissato le condizioni. Sicché Urich adesso dovete anche ponderare che cosa sarebbe stato di Agate dopo che lui fosse ritornato alla sua vita indolente e provvisoria da lui stesso disapprovata. La condizione in cui ella si trovava non poteva durare a lungo. Anche se in quel breve tempo si erano avvicinati in maniera così sorprendente. In apparenza l'incontro di due destine, pensò Urich, benché prodotto probabilmente da ogni sorta di sconnessi particolari, mentre Agate forse ne aveva un concetto avventuroso. Tuttavia sapevano pochissimo l'uno dell'altro sotto il rispetto delle varie relazioni superficiali da cui dipende una vita in comune. Se pensava obiettivamente alla sorella, Urich trovava anzi molti problemi non risolti e anche del suo passato non sapeva formarsi un giudizio esatto. Il maggior lume gli veniva ancora dalla supposizione che ella trattasse con molta negligenza tutto ciò che succedeva a lei o per lei e vivesse molto incertamente e forse fantasiosamente fra speranze che correvano al lato della sua vita reale. Perché tale spiegazione era anche suggerita dal fatto che ella era vissuta tanto tempo con Agawar e poi aveva rotto così in fretta. E rientrava nel quadro anche la spensieratezza con la quale ella considerava il suo avvenire. Era andata via da casa, però la ciole bastava ed evitava di chiedersi e di sentirsi chiedere che cosa sarebbe accaduto dopo. Nemmeno Urich riusciva a immaginare che lei sarebbe ormai rimasta senza marito ad aspettare non si sa che come una ragazzina. Ma neppure poteva raffigurarsi l'uomo adatto per Agate e glielo aveva anche detto poco prima decommiato. Lei però, con sgomento e forse con uno sgomento bruttamente un po' pazzarello, lo aveva guardato in faccia e gli aveva chiesto. Non potrai per i primi tempi vivere semplicemente con te senza stabilire tutto fin d'ora. Così, senza maggior determinatezza, era stata confermata la risoluzione di far casa comune. Ma Urich capiva che con quell'esperimento doveva concludersi l'esperimento della sua vita in vacanza. Non voleva domandarsi quali ne sarebbero state le conseguenze, ma non vedeva di malocchio che la sua vita fosse sottoposta dora innanzi a certe limitazioni e per la prima volta pensò di nuovo al circolo e in particolare alle donne dell'azione parallela. L'idea, collegata al nuovo cambiamento di ritirarsi da tutto, gli parve meravigliosa. Così, come in una sala basta sovente mutare qualche piccolo particolare perché uno sgradevole rimbombo diventi una magnifica risonanza. Nella sua fantasia, la sua piccola casa diventò una conchiglia dove si udiva come un fiume lontano il mormorio della città. E poi, anche nell'ultima parte di quel dialogo, c'era stato ancora un piccolo dialogo particolare. «Vi fremmo come i remiti», aveva detto Agathe con un gaio sorriso. «Ma nelle questioni d'amore, si intende, ciascuno rimane libero. Tu almeno non avrai inciampi», e lo assicurò. «Lo sai», aveva risposto Ulrich, «che noi entriamo nel regno millenario?» «Che cos'è?» «Abbiamo già tanto parlato di quell'amore che non scorre come un ruscello verso la meta, ma come il mare è una condizione». «E ora sì, sincera, quando a scuola ti raccontavano che gli angeli in paradiso non fanno nient'altro che stare al cospetto del Signore e cantare le sue nodi, riuscivi a immaginarti quel beato far nulla e pensare nulla?» «Me lo sono sempre immaginato un po' noioso, ma certo la colpa è della mia imperfezione», era stata la risposta di Agathe. «Ma dopo tutto quello su cui ci siamo intesi, adesso quel mare devi immaginartelo come una solitudine e un'immobilità piena di continui eventi di puro cristallo». «L'età antiche hanno cercato di raffigurare una simile vita anche sulla Terra. Questo è il regno millenario, fatto a nostra immagine e tuttavia diverso da tutti i regni che conosciamo. E così noi vivremo, dispoglieremo di ogni egoismo. Non faremo collezione né di beni, né di cognizioni, né di amanti, né di principi, né di noi stessi. Così il nostro intelletto si scioglierà, si schiuderà verso gli uomini e le bestie e si aprirà in modo che noi non potremo più essere noi e ci terremo in piedi intrecciati a tutto il mondo». Quel piccolo dialogo nel dialogo grande era stato uno scherzo. Ulrich aveva lì carta e matita, faceva annotazioni e intanto parlava con la sorella di ciò che l'aspettava se si fosse venduta la casa e il mobilio. Era ancora irritato e non sapeva bene se la sua era una bestemmia o una fantasticheria. E così non avevano più avuto tempo di mettere in chiaro la faccenda del testamento. Anche ora quella varia maturazione del loro progetto era il motivo per cui Ulrich non perveniva in alcun modo a un rimorso attivo. Nel colpo di mano escogitato da sua sorella non tutto gli dispiaceva sebbene il vinto fosse lui. Doveva ammettere che in tal modo l'uomo che vive secondo la regola degli spiriti liberi al quale egli aveva concesso dentro di sé troppi comodi veniva a trovarsi da un momento all'altro in pericolosa contraddizione con l'indeterminato nel quale la vera serietà prende le mosse. Non voleva poi eludere il fatto rimediandovi in fretta e nel solito modo ma allora non c'era più regola e bisognava lasciar maturare l'evento.